Vi ringrazio davvero molto della presenza, io quando mi viene chiesto di tenere una relazione di sabato sento sempre una responsabilità doppia rispetto a quella dei giorni della settimana perché mi sento la responsabilità di giustificare non la mia ma la vostra presenza qui e di non essere al mare in uno degli ultimi weekend probabilmente di sole dell'anno. Vediamo se riesco a darvi un motivo valido per essere qui, il motivo che voglio provare a darvi è vedere se riesco a generare in voi lo stesso livello di preoccupazione che si è generato in me da quando l'anno scorso ho avuto l'idea, non ho ancora capito se felice o meno, di iniziare ad approfondire i temi legati all'intelligenza artificiale. Ora, io sono un giurista, mi occupo di diritto commerciale ma nello specifico mi occupo di diritto della proprietà intellettuale, cioè mi occupo delle materie che sono connesse con la possibilità di avere un diritto di privativa, cioè di proprietà, su delle creazioni intellettuali. Le creazioni intellettuali sono quelle che tipicamente siamo portati ad associare con la nostra natura di esseri umani. Siamo portati a pensare che una canzone è solo la creazione di un essere umano, che un romanzo è solo la creazione di un essere umano, che un'opera d'arte è solo la creazione di un essere umano. Noi sappiamo, perché ce l'ha raccontato la storia degli ultimi duecento, trecento anni, se non in realtà ce l'ha raccontato in modo più evidente la storia degli ultimi trecento anni, ma direi che è la storia dell'umanità che ci insegna questa cosa, che le macchine alla fine sostituiscono l'uomo in una serie di attività. Questa non è necessariamente una cosa negativa, ben inteso, perché se una macchina mi sostituisce nell'attività di trasportare un pesante fardello in due posti molto lontani tra di loro, io personalmente ne sono lieto, perché questo mi allevia dalla fatica, dal mal di schiena e mi libera del tempo per poter fare altro, per potermi occupare di quello che mi piace, ad esempio per potermi occupare di musica, di letteratura, di arte. Quello che mi è inquietato e vi ho detto, voglio provare a condividere con voi, perché condividere le proprie preoccupazioni è anche un modo per alleviarle. Mi ha inquietato l'anno scorso leggere di questa notizia, il Washington Post, che è un giornale che probabilmente se anche non avete letto avete almeno sentito nominare, è uno dei giornali più, dei quotidiani più letti negli Stati Uniti, da alcuni anni, pochi anni, ha iniziato ad utilizzare dei sistemi di intelligenza artificiale per la redazione di notizie di cronaca. Quindi immaginiamoci sia un classico evento di cronaca americano, terremoto in California, non è più un redattore umano, un giornalista umano che scrive la notizia di cronaca, c'è stato un terremoto in quella tal zona della tal manitudo, eccetera, eccetera, ma lo scrive direttamente un sistema di intelligenza artificiale. Io non so quanto i giornalisti siano felici di questa cosa, bisognerebbe chiederla a loro. Come dire, questo non è un caso isolato. Alcuni mesi fa sono entrato in contatto con un gruppo di giovani ragazzi ricercatori francesi che si è occupato di sviluppare un programma di intelligenza artificiale che ha realizzato un dipinto che è stato venduto qualche mese fa all'asta da Christie's per mezzo milione, quasi mezzo milione di dollari, 432 mila dollari. Ancora prima, forse a qualcuno di voi sarà capitato di leggerlo sui giornali o su internet, ancora qualche anno prima un altro sistema di intelligenza artificiale aveva prodotto un'opera d'arte che è stata intitolata The Next Rembrandt, il prossimo Rembrandt, che è fatta in questo modo. Sembra a tutti gli effetti un quadro di Rembrandt, solo che è un quadro che non è stato mai fatto da Rembrandt. È il risultato dell'analisi da parte di un sistema di intelligenza artificiale di tutte le opere di Rembrandt. Da quest'analisi il software è stato in grado di estrarre le informazioni legate allo stile, al pattern si potrebbe dire, della tecnica pittorica e dell'arte di Rembrandt e di riprodurre un'opera che assolutamente non è originale nel senso di Rembrandt, ma che sembra a tutti gli effetti un'opera di Rembrandt. Quindi la domanda che mi ha inquietato e sulla quale non so se avrò rassicurazioni dal collega Rovatti è la direzione verso la quale stiamo andando è veramente quella di doverci abituare a pensare che non solo siamo stati sostituiti in tutti i compiti più ingrati, quindi in quelli che comportano uno sforzo fisico, in quelli che comportano un'attività ripetitiva, rutinaria, magari anche noiosa, ma che in prospettiva verremo sostituiti anche nelle attività più tipicamente umane, cioè quelle creative. Non so cosa ci può raccontare Riccardo Rovatti di queste prospettive future. Allora sì, in teoria quindi il mio compito sarebbe quello di sedare l'ansia in questo caso, purtroppo impossibile perché... Ti uso come mio analista in questo caso. Mi piacerebbe molto, allora dal punto di vista generale l'ansia non possiamo sedarla anche perché l'anno scorso, ed è una notizia che ha avuto un certo risalto, si sono incontrate due persone che l'intelligenza artificiale se ne intendono perché ci fanno un sacco di soldi, cioè Elon Musk e Jack Ma, e hanno due visioni completamente... hanno in un colloquio pubblico, in una conferenza dedicata all'intelligenza artificiale e hanno espresso due punti di vista completamente diversi. Elon Musk è estremamente pessimista, dice che ci siamo creati gli alieni in casa e ci sostituiranno in tutti e noi probabilmente avremo come unica speranza quello di emigrare in un altro pianeta, ovviamente guarda caso Marte dal punto di vista di Musk, comunque questo è ovviamente una cosa, non una coincidenza, invece Jack Ma dice ma noi abbiamo sempre cavalcato qualunque altra tecnologia, io personalmente ci faccio un sacco di soldi con l'intelligenza artificiale, ma non mi sento spossessato di alcuna prerogativa umana. Nessuno dei due ha gli argomenti definitivi, perché l'argomento definitivo è quello che succederà nel 2100, probabilmente, in cui hanno in cui probabilmente le tecnologie avranno già dato i segni necessari per farci capire da che parte staremo di questo doppice possibile destino, ci estinguiamo come specie intelligente perché siamo inutili, oppure godiamo dei benefici di una macchina che fa molte cose per noi e noi in realtà possiamo farne altre e vivere meglio. L'unica cosa che so di sicuro è che una parziale cura per l'ansia è la conoscenza, per cui magari anche qualche dettaglio in più aiuta a ritagliare un perimetro ben definito all'interno del quale le attuali applicazioni di intelligenza artificiale si muovono e vi assicuro che se uno fa questa cosa qui l'ansia si riduce di moltissimo. E prendo esattamente l'esempio che ha fatto adesso Giorgio perché il programma che citava del Washington Post si chiama Heliograph ed effettivamente è dannatamente buono. È stato l'anno scorso insegnato di un premio che si chiama Big Ease Award, cioè un premio che viene dato alla comunità scientifica per chi utilizza meglio le grandi moli di dati. Un premio che in questo caso è abbastanza significativo dal punto di vista dell'applicazione che stavamo analizzando è stato conferito alla Columbia University nella Pulitzer Hall, quindi il gota del giornalismo mondiale e effettivamente Heliograph è dannatamente buono nel scrivere notizie in un certo ambito, in alcuni ambiti. Heliograph è stato progettato, vi do solo qualche dettaglio, che effettivamente aiuta a capire bene in cosa siamo bravi e per complemento anche qualcosa in cui ancora non siamo bravissimi. È stato progettato nel 2016 per seguire le Olimpiadi di Rio e nonostante abbia delle capacità creative perché scrive testi, i testi derivano da un certo numero di template predisposti da giornalisti, per cui più che di una sostituzione in questo caso si tratta di una collaborazione, come se uno vuole essere ottimista è chiaro che spera si svolgerà il futuro insieme dell'intelligenza artificiale e dell'intelligenza naturale. Effettivamente ci sono template in cui mancano dati, in cui mancano piccoli costrutti sintattici e il compito principale di Heliograph è analizzare i dati che in quel caso venivano forniti dal Comitato Olimpico, quindi chi vince una medaglia, quali sono i tempi di una corsa, qual è l'altezza di un salto e così via, e rivelare quelle che tecnicamente si chiamerebbero anomalie statistiche, cioè una nazione non ha mai preso una medaglia, entra la prima medaglia di bronzo nel suo medagliere, questa è un'anomalia statistica e immediatamente Heliograph, che può analizzare contemporaneamente tutti i dati a sua disposizione, la evidenzia trova il template giusto da compilare e genera il trafiletto della notizia. Qualcuno al primo salto è già entro il 5% del record del mondo, anche questo è un'anomalia perché non è mai successo e genera un altro trafiletto scegliendolo opportunamente. Così come, spero di avere il tempo di farvi vedere come si possono generare opere molto simili a quelle degli artisti umani in maniera estremamente creativa, ma anche in questo caso è un compito ben determinato che sotto ha un'architettura ben definita. Quindi è vero, le intelligenze artificiali sono ormai molto sviluppate e noi stiamo uscendo, l'intelligenza artificiale è una, anche se non sembra, una disciplina molto antica per essere tecnologica, ha 64 anni, ha una data di nascita particolarmente definita, ha una conferenza che tutti chiamano Darth Mouth Conference del 1954, quindi ormai siamo verso i 65 anni, ha avuto molti fallimenti, noi stiamo uscendo dal cosiddetto terzo inverno dell'intelligenza artificiale, quindi è chiaro che siamo tutti entusiasti, facciamo tantissime cose, sono molto belle le applicazioni dell'intelligenza artificiale, però ovviamente, secondo me, ed è penso quello che discuteremo a breve nel dettaglio, saranno capaci di essere creative, veramente, e quindi il problema della protezione dei loro prodotti di tipo creativo sarà un problema. Io spero che li affronteremo, perché sapendo, conoscendo, analizzando, dovremmo essere in grado, non dico di dominare, ma almeno di cooperare e stare accanto a questi nuovi tipi di produzione di creatività. Quindi io so che... Non so quanto mi hai tranquillizzato in realtà, spiego perché. Adesso sono abbastanza certo che ci sia una certa percentuale di avvocati in questa sala. È molto facile per me, da questo punto di vista, far preoccupare gli avvocati, nel senso che immaginate soltanto l'attività di redazione contrattuale. Negli studi internazionali, quindi quelli che hanno delle dinamiche operative più simili alle grandi imprese, ormai da moltissimi anni non c'è un avvocato che si siede a una scrivania e compila un contratto dall'inizio alla fine. Hanno degli enormi sistemi gestionali di informazione in cui hanno delle clausole predeterminate e quello che si limitano a fare gli avvocati è assemblare delle clausole predeterminate. Poi magari dando il ritocco finale per ritagliare la clausola contrattuale sulle esigenze del cliente, però grossomodo sono stati, ormai sono moltissimi anni che si fa in quella maniera. Mi chiedo se gli avvocati verranno sostituiti anche in quel ruolo, cioè nel ruolo di assemblatori. Mi sembra che da quello che dici un programma di intelligenza artificiale sia perfettamente in grado di selezionare quali sono le clausole più opportune all'interno di un contratto in base alla circostanza concreta e a metterle insieme. Allora, di questa cosa non sono nulla di specifico, però per esempio corposi programmi di intelligenza artificiale vengono usati nella due diligence che è necessaria per fare le fusioni societarie. È un'operazione che comporta la lettura, diciamo così, anche abbastanza accurata nel dettaglio di enormi moli di documenti, enormi moli di documenti. Più sono grandi le compagnie che si devono fondere o acquisire l'una con l'altra, più la mole aumenta. È qualcosa che è sempre stato fatto tradizionalmente dai grandi studi, addirittura assumendo lavoratori interinali altamente squalificati, ovviamente, perché non tutti possono leggere bilanci e contratti. Questa è qualche cosa che attualmente si automatizza in maniera cospicua. Sempre in un clima di collaborazione, però questa parte in particolare in maniera cospicua. Quindi se questo non ti tranquillizza, effettivamente allora devi andare a dormire un po' preoccupato. E per par condicio a questo punto farei preoccupare anche i magistrati. Quello che voglio dire è che sono già in atto le sperimentazioni sull'uso dei programmi di intelligenza artificiale per, in questa fase siamo ancora in una fase di aiuto alla decisione del magistrato. Cioè sono programmi intelligenza artificiale che ti restituiscono tutto il quadro dei precedenti in un determinato settore, ti aiutano a valutare qual è la soluzione più efficiente nel caso che stai trattando. Quindi non voglio arrivare a dire che il lavoro del magistrato in questo contesto di sinergia tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana si riduca a spingere un pulsante e a chiedere alla macchina dimmi quale sentenza devo emettere. Però è chiaro che se la torta della decisione è 100, la fetta che rimane al magistrato in quanto essere umano, quindi al lavoro umano si va sempre di più riducendo. Ecco, trovo bizzarro anche il fatto che in questa stanza ci sono probabilmente un discreto numero di avvocati, un certo numero di magistrati ma anche degli studenti e per loro invece l'unica cosa che mi viene in mente sono delle buone notizie. Perché la prima cosa che immagino, ne stavamo parlando con Riccardo fuori poco fa, è il fatto che chi di loro si iscriverà all'università si dovrà confrontare prima o poi con una tesi di laurea. Ieri scrivevo una mia tesista che sarebbe gradevole per me leggere una tesi di laurea che non fosse piena di errori grammaticali e sostanzialmente consistente in una lista di appunti e loro probabilmente, adesso non so se loro nell'immediato vedo che si sono illuminati gli occhi di molti che hanno immaginato di poter essere sostituiti nella redazione di una tesi di laurea da un sistema di intelligenza artificiale. Adesso non penso solo alle tesi compilative, un altro motivo di inquietudine per me è stato leggere che in Giappone un sistema di intelligenza artificiale ha scritto una novella che ha partecipato a un premio letterario ed è arrivato in finale, non ha vinto, quindi abbiamo ancora una certa supremazia rispetto all'intelligenza artificiale, quella umana ha ancora una certa supremazia, ma mi domando se non sia solo una questione di tempo. Da studioso di proprietà intellettuale quando io penso alle attività creative e quindi penso alla creatività sono in una certa difficoltà perché è chiaro che cosa sia la creatività e se una macchina sia in grado di essere creativa è una domanda alla cui risposta è molto complessa ed è complessa perché se io provassi a confrontarmi con ognuno di voi e vi chiedessi cosa significa creatività, voi sareste in difficoltà forse a rispondermi. Cioè la nozione di creatività per come la interpretiamo normalmente è una nozione che ha a che fare con l'ispirazione. Lo interrompo subito perché adesso inizierà una fase in cui io tenterò di essere riduzionista ovviamente, da bravo ingegnere, per cui sentiremo slanci filosofici sulla creatività che io cercherò di domare, vediamo che cosa tiriamo fuori. No, quello che volevo dire è esattamente questo, cioè proprio partendo da quello che diceva Riccardo, cioè dall'approccio riduzionista. Allora, gli studiosi di proprietà intellettuale, tutta la proprietà intellettuale è la disciplina giuridica della creatività. Detta così sembra una cosa per l'appunto un po' filosofica, un po' fuffa. In realtà la disciplina della proprietà intellettuale non si occupa della creatività come concetto astratto, ma del prodotto creativo, cioè del risultato creativo. Quindi io scrivo un libro, non si occupa del fatto che io sia o non sia creativo come essere umano, ma si occupa che quel libro che io ho scritto sia originale. Io invento una nuova soluzione a un problema tecnico, immaginiamo come strutturare uno spazzolino da denti in maniera tale da massimizzare la quantità di placca rimossa. È un esempio che non sto facendo in modo casuale. Qualcuno di voi avrà usato o, come dire, perlomeno sentito parlare dello spazzolino da denti, di cui non dirò la marca per ovvi motivi, ma quello con le setole incrociate, che rimuove fino al, non ricordo quanto, per cento di placca in più. Quello spazzolino è stato realizzato da un programma di intelligenza artificiale. Per noi giuristi che ci occupiamo dei prodotti creativi, la creatività è novità e originalità. Cioè è qualcosa di nuovo che non esiste prima, io sto realizzando un prodotto creativo, se realizzo un prodotto che non esiste prima, nuovo, dopo nel diritto della proprietà intellettuale la novità è interpretata in vari modi, per alcuni settori del diritto della proprietà intellettuale è una novità soggettiva, cioè è nuovo per me che lo faccio. Per altri settori come il diritto dei brevetti è una novità oggettiva, cioè è nuovo in assoluto. Novità e originalità, cioè relazione ad un valore. L'originalità nel diritto è qualcosa che è legata ad un valore, nei marchi è legata alla capacità di distinguere dei prodotti dagli altri, nel diritto d'autore è legato alla capacità di riflettere la personalità dell'autore, nel diritto dei brevetti è legato alla capacità di risolvere un problema tecnico in modo non ovvio. Allora il grande quesito è una macchina è in grado di produrre qualcosa di nuovo e di originale nel senso di connotato da uno specifico valore. Quindi è il momento del riduzionista. Allora sì, volevo farvi vedere due cose a proposito del concetto di nuovo. In realtà la prima parte dei miei argomenti è di tipo matematico-filosofico, secondo me sono piuttosto interessanti perché ci permettono di far vedere due cose. Intanto di specificare per mettere in realtà nel nostro dialogo di capire meglio che cosa vuol dire nuovo e poi di introdurre qualcosa che secondo me è interessante, cioè il rapporto tra creatività è infinito. Una delle ragioni secondo me per cui cominciamo a preoccuparci che le macchine riescano a fare qualche cosa di creativo è perché nel nostro cammino, diciamo così, di sviluppo tecnologico riusciamo a gestire quantità di cose, non importa in questo momento che cosa siano le cose, sono bit in realtà, sta diventando veramente enorme. Allora per farvi capire entrambe gli aspetti della faccenda io vorrei presentarvi un trucchetto che si è inventato, questo signore qua, se ce lo faccio ce lo va a vedere, sì, questo signore Cantor era un matematico nel 1800, ha fondato la teoria degli insiemi e soprattutto è il papà del concetto matematicamente corretto di infinito. Per fare questo ha originato un sacco di idee interessanti che poi vedremo riapplicate anche in seguito. In particolare si è inventato una cosa semplice e geniale che tutti gli riconoscono come procedimento di diagonalizzazione di Cantor e per quanto ci siano dei numeri è estremamente semplice e lo scopo è questo, se io ho già una lista di oggetti che ovviamente dovrò associare a dei numeri, quindi a delle sfilze di zeri e uni, se ogni oggetto è determinato da tantissimi zeri e uni, io posso per quanto sia lunga la lista aggiungere un oggetto che nella lista non c'è e posso farlo infinite volte, in continuazione, generando quindi in continuazione cose nuove. Allora quello che vi inviterei a fare è di seguire il ragionamento molto semplice del signor Cantor che dice guarda il primo oggetto è 00000000, ha infiniti zeri, il secondo è 11111 e così via e questa qui è la mia lista, la mia lista è infinita, quindi potrei pensare di aver generato tutti gli oggetti possibili. No, non è così, è molto facile da far vedere perché posso costruirne un altro e che cosa faccio? Mi concentro sullo zero in alto a sinistra del primo oggetto, quindi il primo simbolo del primo oggetto e dico è uno zero, beh allora il mio avrà un uno, così è diverso dal primo oggetto. Poi guardo il secondo oggetto e per fare in modo che il mio oggetto nuovo sia diverso anche dal secondo, guardo la seconda cifra del secondo oggetto che è un uno e dico vabbè allora il mio avrà uno zero. Poi vado al terzo oggetto, voglio che sia diverso anche da questo la novità, no? Quindi guardo la terza cifra del terzo oggetto e vedo che è uno zero e quindi nel mio oggetto ci sarà un uno per diversificarlo anche da questo. Alla fine di questo procedimento che è ideale, serve per far capire una caratteristica tecnica dal punto di vista matematico ma anche filosofica, io riesco a generare sempre un oggetto nuovo. Poi lo aggiungo alla mia collezione e dico finito. No, ricomincio e anche se lui è in fondo alla lista, quando arriverò a lui genererò un altro oggetto che differirà anche da lui almeno per una posizione e così via. Questo garantisce che la novità sia sempre generabile in maniera meccanica perché questo è un banalissimo algoritmo che ovviamente ha dei difetti, adesso Giorgio ci farà capire come mai questo non si infila direttamente nella nozione di novità di tipo giuridico e mi fa capire anche un'altra cosa che perché questo procedimento sia necessario dobbiamo avere in qualche modo accesso a moltissimi numeri. Se questa lista è tre oggetti caratterizzati da tre cifre, finisce subito. In realtà ce ne sono otto e quando li abbiamo fatti tutti otto abbiamo finito e andiamo a casa. Quindi la ragione per cui stiamo avendo a che fare con delle domande sulla creatività meccanica, digitale in questo caso perché le nostre macchine sono ormai digitali, quindi 0 e 1, è perché noi stiamo avendo accesso gradatamente all'infinito dal punto di vista filosofico. Adesso ovviamente questo tentativo riduzionistico estremo verrà un po' smontato, però... No, io faccio tutt'altro che smontarlo, cioè propongo una considerazione. Devo dire che le mie peggiori paure si stanno concretizzando, cioè io speravo che Riccardo mi tranquillizzasse e invece mi sta facendo aumentare il livello di ansia. Spiego perché. Questo gioco di Cantor ha un problema, cioè Cantor non ha mai disegnato quadranti di orologi. Spiego perché sto citando i quadranti di orologi. I quadranti di orologi, se voi voleste da domani lasciare qualunque lavoro che state facendo per dedicarvi a fare i designer di oggetti, immaginiamo di orologi, qualcuno vi commissionerebbe, che ne so, un brand di orologi, vi commissionerebbe di disegnarne un nuovo modello. E vi chiederebbe di, che ne so, iniziare a fare un nuovo quadrante. Cos'è un nuovo quadrante? Un nuovo quadrante è un quadrante, ci dice, io ragiono da giurista ovviamente, quindi ci dice la disciplina sui disegni e modelli, un nuovo quadrante è un quadrante che ha carattere individuale rispetto agli altri. Carattere individuale, adesso provo a banalizzare il tema, che si distingue in modo percepibile rispetto agli altri. Ora qual è il problema? Che Cantor riesce con il trucco della diagonalizzazione a creare sempre qualcosa di nuovo. Ma voi quante varianti di quadranti di orologio potete creare? Sì, potete fare delle modifiche, non lo fate rotondo, lo fate ovale, non lo fate ovale, lo fate quadrato, non lo fate quadrato, lo fate rettangolare. Rettangolare con, come dire, una forma rettangolare un po' più accentuata o meno accentuata. Quello dei quadranti di orologi è uno di quei settori della tecnica e dell'industria che nel diritto di disegno e modelli si chiama settore affollato. La conseguenza del settore affollato, da un punto di vista giuridico, cioè la conseguenza dell'esistenza di un settore affollato, è che il legislatore ci dice io non posso chiedere a un designer che deve produrre un nuovo quadrante di orologio che sia radicalmente nuovo rispetto a quelli precedenti. Perché il numero di quadranti che si possono realizzare è relativamente limitato. E quindi quello che mi inquieta è pensare che c'è ancora forse lavoro per chi disegna i quadranti di orologi. Perché quello che ci dice il legislatore è che è sufficiente che noi ci differenziamo un po' da quello che preesiste. Ma un sistema di intelligenza artificiale è in grado, nel tempo in cui io disegno un quadrante di orologio, di disegnare tutte le possibili varianti di orologio che sono concettualmente ammissibili. Cioè l'intelligenza artificiale lavora con i numeri ed è in grado di arrivare all'infinito. L'essere umano non è in grado di arrivare all'infinito, perché non ha il tempo, le risorse, forse alla fantasia, ma il tempo e le risorse sono dei limiti abbastanza grossi all'esercizio della fantasia. E quindi mi domando, il giorno in cui un leader del mercato degli orologi chiederà a un sistema di intelligenza artificiale di disegnare degli orologi, e il sistema di intelligenza artificiale non farà altro che sfornargli tutte le possibili soluzioni e dire scegli tu quella che vuoi mettere in commercio. E allora il produttore che ha tutti questi disegni dirà, beh senti io inizio a registrarli tutti quanti. Non li devo necessariamente produrre tutti quanti, ma li registro tutti quanti. Che spazio resta per la creatività umana dopo? L'unica cosa che mi consola è pensare che l'originalità è sempre l'associazione tra novità e valore. E quindi che ci deve essere qualcosa di più della mera non preesistenza nel mondo oggettivo. Il problema poi diventa ovviamente cos'è questo qualcosa in più. Abbiamo parlato di valore, adesso non voglio scendere nel dettaglio delle singole discipline. Qualcuno tra gli studiosi di proprietà intellettuale ha detto quello che deve fare l'essere umano quando cerca di creare qualcosa di originale, è essere sorprendente. Questo è uno dei grandi ostacoli che vedono contrapposti studiosi di intelligenza artificiale e studiosi di proprietà intellettuale. Cioè molti studiosi di diritto pensano che una macchina non possa essere sorprendente, perché una macchina è programmata. Quindi la macchina fa quello che il programmatore l'ha istruita per fare. E qui ancora una volta il mio motivo di angoscia. Con sconcerto ho letto la notizia di alcuni anni fa in cui un sistema di intelligenza artificiale programmato da Google, se non vado errato, è addestrato a giocare al gioco del Go. Il Go è una specie di scacchi infinitamente più complicato. Pare sia il gioco più complicato del mondo. Le varianti configurabili di mosse sulla scacchiera sono quasi infinite. Questa macchina ha battuto il campione del mondo di Go con delle mosse che gli osservatori esperti del Go hanno giudicato sorprendenti. Hanno detto non ci saremmo mai aspettati che qualcuno o qualcosa potesse immaginare una mossa del genere. Quindi la domanda a Riccardo è ma allora una macchina può essere anche sorprendente oltre che fare la diagonalizzazione di Cantor. Assolutamente sì. Allora vorrei dirvi due cose. Uno riguarda AlphaGo, che è il nome del programma che effettivamente è stato fatto da Google. La cosa che probabilmente allora ti toglierà il suono definitivamente è che nessuno ha insegnato veramente ad AlphaGo a giocare a Go, ma AlphaGo ha giocato con se stesso per giocare a Go, perché era molto più veloce che fargli vedere quali erano le mosse giuste. E quindi siccome fra un attimo vedremo che molta dell'intelligenza artificiale odierna si basa su un meccanismo che è quello del machine learning, cioè noi non programmiamo le macchine perché facciano dei task, dei compiti predeterminati, ma le programmiamo in modo che possano apprendere il compito che devono eseguire da esempi, era molto più facile che l'addestratore di AlphaGo fosse AlphaGo stesso. Non è tecnicamente perfetta questa descrizione, però direi che è suggestiva sufficienza per toglierti il sonno definitivamente. Ti regalerò della melatonina. Sul fatto che sia ancora possibile la sorpresa anche all'interno di un sistema meccanico, formale, aritmetico? Mi piacerebbe spendere ancora cinque minuti di filosofia. Allora la prima cosa che mi viene in mente è che, ma questa è una cosa che nelle nostre discussioni precedenti è già venuta fuori, c'è una componente inevitabilmente combinatoria nella creatività. Tutte le possibili combinazioni dei quadranti effettivamente possono essere generate. Se uno mi dice quali sono le combinazioni possibili per ogni elemento del quadrante, io posso mettere una macchina, generarle tutte e così via. E questo mi sa molto di una cosa che io ho ritrovato con una gioia enorme quando l'ho lessi a suo tempo, la biblioteca di Bebele di Borgesche. Non so se vi ricordate o se avete mai letto, ma è un racconto godibilissimo, fra l'altro in una raccolta assolutamente stupefacente. Il racconto del 1941 ipotizza una biblioteca con una struttura estremamente regolare, che è più o meno quella che c'è sullo sfondo di questa slide, in cui ci sono tutti i libri di 410 pagine, in cui ogni pagina contiene 3260 caratteri. Allora il numero di questi libri è enorme, è scritto lì sotto e non ci sta nelle vostre calcolatrici né nei telefonini, non lo calcola, però si può calcolare. 10 alla 1.800.000 vuol dire che è circa un 4 con 1.800.000 zeri dietro, quindi un numero sterminato. Però è finito. E questo è un classico esempio di creatività combinatoria, perché come giustamente Borgesche commenta dentro questa biblioteca c'è qualunque cosa, anche tutte quelle creative, le migliori, le più belle opere d'arte, le loro descrizioni filosofiche, le confutazioni di ogni idea e così via. L'ambiente che riesce a creare con la scrittura questo maestro è ovviamente estremamente suggestivo e non vi fa pensare alla parte di protezione intellettuale, ma un semplice tragitto all'interno di questa biblioteca, per quanto sterminata, è l'equivalente del generare tutti i quadranti di orologio, per cui basta camminare in realtà per essere creativi a questo punto, se facciamo leva sull'aspetto combinatorio. È abbastanza interessante capire che in realtà così non è. In realtà dobbiamo fare appello a un matematico ancora più recente, che si chiamava Gödel, che ha analizzato proprio la capacità di meccanizzare i ragionamenti in matematica nei sistemi formali più semplici che abbiamo, che sono quelli che esprimono l'aritmetica, cioè che ci fanno fare più o meno per ediviso. Non sembra una cosa difficilissima, ma tutto quello che si può fare con più o meno per ediviso ci sembra di poterlo catturare, ma non è così. Allora, in particolare, l'osservazione di Gödel, anzi sono teoremi, sono teoremi difficili, che io non padroneggio neanche del tutto, però hanno questo significato. È vero, esiste un procedimento di tipo meccanizzabile, che è la dimostrazione matematica, che produce a partire da verità che io suppongo vere, di assiomi, tutte quelle cose che io posso provare, che sono per i matematici i teoremi, quindi tutte le mie deduzioni, a partire da qualcosa che è inizialmente assunto vero, sono meccanizzabili. Queste cose che io dimostro sono vere, ma esistono cose vere che io non posso dimostrare. Ora, voi capite che nonostante questo sia un teorema rigorosissimo, a suo tempo ha generato un'ondata di riflessioni filosofiche enormi. Perché interessa a noi, dal punto di vista della proprietà intellettuale? Perché la dimostrazione è l'analogo del meccanizzazione del processo creativo. Genera tutto ciò che può discendere dalla definizione di quadrante, genera tutto ciò che può discendere dalla prima stringa di 0 e 1 che ho messo nella lista di Cantor e così via. E ci dice che se tu segui uno di questi procedimenti meccanici e ripetitivi, generi tante cose, ma non tutte quelle vere. Allora, se mi consentite l'associazione tra verità e valore della scoperta, quindi io vorrei che fossero sia nuovo che di valore per avere della creatività, se il valore lo identifico nella verità, è ovvio che esistono cose di valore che non possono essere prodotte in maniera meccanica. Dal punto di vista della biblioteca di Babele è un po' come se non ci fosse una sola biblioteca di Babele che io posso percorrere con un percorso per quanto complicato che poi alla fine mi fa vedere tutto. Io sto vivendo, se sono una macchina, in una delle isole possibili, in una delle biblioteche di Babele possibili, perché il mio procedimento meccanico, il cammino che svolgo, non mi porterà a vedere tutto ciò che ha valore. Se voglio vedere altre cose che hanno valore ho bisogno di un salto nell'altra isola, oppure magari di due salti per due isole ancora più in là e così via. E questo probabilmente è l'analogo più stretto, matematico, filosofico della vera creatività, cioè il misto tra percorso attraverso un insieme combinatorio di scelte, che sicuramente mi possono essere date e io posso analizzare anche compiutamente, e invece il salto, qualche cosa che io non posso fare con lo stesso metodo con cui esploro la biblioteca di Babele, ma che mi marta in un'altra biblioteca in cui c'è altro valore, c'è altra verità. Ora, le parole che ho detto sembrano pura filosofia, l'idea che ci sia anche un teorema del 1931 che me le sostanzia, secondo me è molto interessante. Quindi questa cosa forse ci fa arrivare a un punto comune, nel senso che non è detto che sia così facile fare i salti da una biblioteca di Babele all'altra. Sicuramente il punto comune che io vedo, questo me la dice lunga, su quanto la cultura e la conoscenza umana che all'università siamo sempre molto portati a settorializzare, sia invece una grandissima rete di conoscenze legate tra di loro. Riccardo parla del salto. Quel valore a cui facevamo riferimento, nel diritto dei brevetti, quindi in un ramo del diritto della proprietà intellettuale, si chiama inventive step, che in italiano viene tradotto come salto inventivo, cioè la capacità di fare qualcosa che va al di là. Questo è un tema molto interessante perché nel diritto dei brevetti, in cui quello che è brevettabile, l'invenzione che è brevettabile, è solo l'invenzione non ovvia per il tecnico medio del settore. Non ovvia, cioè sorprendente, originale, cioè non mera conseguenza di un processo rutinario e quindi algoritmico e quindi si dice deve essere il frutto di una euristica, deve essere il frutto di intuizione, ci porta forse a trovare il punto di differenziazione tra l'uomo e la macchina, cioè la capacità di intuizione. Ancora una volta io evidentemente sono particolarmente sensibile rispetto alle notizie che leggo, mi ha inquietato, in parte adesso Riccardo mi ha tranquillizzato, ma quello che mi ha inquietato è leggere non tanto che la macchina sia capace di intuizione esattamente come un essere umano, ma che l'essere umano non sia capace di intuizione, che in realtà l'intuizione non esista. Ci sono alcune teorie per le quali l'intuizione è semplicemente una superiore velocità di calcolo che non ti fa vedere i passaggi intermedi. Cioè quando noi qualcuno ci lancia una pallina o un oggetto contundente, noi istintivamente ci spostiamo, cioè non siamo portati a riflettere sul fatto che se fossimo colpiti dall'oggetto contundente ne subiremmo un danno, ci faremmo male e scopriremo a piangere. Istintivamente istinto, intuizione, istintivamente ci spostiamo. In realtà si dice ma questa non è una qualità divina, è semplicemente esperienza, cioè dati accumulati nel tempo, tutte le botte che abbiamo preso da piccoli, ci dicono che quando ci arriva un oggetto proiettato a una certa velocità contro il nostro cranio, noi ci dobbiamo spostare se non vogliamo farci male. E allora però mi chiedo, se l'intuizione umana è soltanto velocità di calcolo, tale per cui non si vede il processo intermedio, sono come quelli che a scuola, forse tra di voi c'è il ragazzo invidiato da tutti i compagni di classe, quello che quando fa le operazioni matematiche salta i passaggi. Quello che salta i passaggi, voi dite, è un genio della matematica, come fai a saltare i passaggi? Hai intuito? No, ho semplicemente calcolato più velocemente. E però se tutto il tema dell'intuizione, a cui è legata la creatività, si riduce a velocità di calcolo, chi meglio di una macchina mi garantisce la velocità di calcolo? Beh, facendo delle molte biblioteche di Babene dovrebbe averti tranquillizzato, no? Sì, esatto. Non basta un'infinita velocità di calcolo per fare tutti i percorsi possibili in una singola biblioteca di Babene perché un procedimento meccanico non riesce a generare tutte le verità, le verità ce ne sono altre. Peraltro il teorema di Cantor è talmente forte, scusate, Gödel è talmente... scusate, ho detto Cantor perché una delle cose che mi sono dimenticato di dirvi è che Gödel usa il procedimento di diagonalizzazione di Cantor in una sinergia, secondo me è estremamente interessante e suggestiva. Comunque la potenza del teorema di Gödel è tale per cui se io decido di accorpare due isole, ovvero introduco una nuova proposizione che è vera ma non potevo dimostrare, quindi ne ho di più e comincio a fare deduzioni, comunque mi rimane qualcosa fuori, cioè le isole rimangono infinite al di fuori da raggiungere. E questo non è meccanizzabile se non fino a un certo estento che, scusate l'inglesismo, fino a un certo livello che magari analizziamo fra un attimo quando cerchiamo di capire come sono fatte le macchine che creano, perché prima di passare a proteggerle forse vorremmo dare un'occhiata a che cosa c'è dentro. Vogliamo dare un'occhiata a cosa c'è dentro perché per proteggere i risultati di quello che fanno le macchine c'è bisogno di capire cosa c'è dentro. Ve lo stavo accennando prima, cioè i giuristi stanno facendo, o perlomeno la maggior parte dei giuristi, sta facendo una discreta barricata contro la possibilità di riconoscere dei diritti di proprietà intellettuale rispetto ai risultati creati dalle macchine. E la sta facendo utilizzando delle motivazioni varie che vanno da la disciplina non lo prevede espressamente, ci sono indizi che suggeriscono che l'unica creatività presa in considerazione dal legislatore è quella umana. Ci sono le linee guida interpretative del copyright office americano che specificano espressamente che si può ottenere un copyright solo su una creazione intellettuale umana. Questo non so quanti di voi hanno seguito qualche anno fa il caso del selfie della scimmia del macaco, è girato moltissimo sia su internet che sui giornali. Il caso era quello di questo fotografo che si dimentica, la macchina fotografica nella giungla di Sulawesi, che è un'isola dell'Indonesia, è un macaco crestato, la trova e per puro caso c'era l'obiettivo rivolto verso di lui, lui spinge il pulsante e si fa un selfie sorridendo. A Preticello negli Stati Uniti, dove evidentemente non hanno problemi più rilevanti, ci si chiedeva di chi fosse il copyright sulla fotografia del macaco. Se del macaco, del fotografo, di nessuno. Un tribunale della California ha detto ragazzi non scherziamo, il macaco non ha diritti soggettivi. Su questo alcuni potrebbero obiettare, il macaco non ha diritti soggettivi, il fotografo non ha fatto niente, quindi non esiste un copyright su quell'oggetto, ma nel contesto del diritto dei brevetti il tentativo in cui, siccome nel contesto del diritto dei brevetti non c'è scritto specificamente che l'invenzione deve essere realizzata da un essere umano, quello che si cerca di valutare per respingere le domande di brevetto rispetto a invenzioni realizzate da una macchina è se il procedimento che segue la macchina per inventare sia un procedimento non puramente algoritmico, perché si dice un procedimento puramente algoritmico sarebbe ovvio per l'esperto medio del ramo, cioè qualunque esperto del settore seguendo quel procedimento è in grado di arrivare a quel risultato. Quindi mancherebbe l'effetto di sorpresa di cui discutevamo prima. Quindi sono estremamente curioso di sentire da Riccardo come fanno a essere creativi le macchine. Allora intanto vi inviterei a cercare su Google selfie macaco perché è fantastico, io non ho la connessione internet sennò è veramente spassoso perché è perfettamente un selfie, non è una cosa... È un selfie venuto bene. È un selfie venuto anche particolarmente bene. Sì, vediamo come sono fatte dentro. Allora, so di fare particolarmente felice un mio collega che è in sala in questo momento, perché noi siamo fatti dentro così, non le macchine, no? Quello è ovviamente in maniera estremamente stilizzata un neurone nel nostro cervello che se riesco a fare andare avanti ho dei problemi con... Voi sapete che ci sono dei posti in cui viene stimolato, a un certo punto dopo una stimolazione il nucleo decide che bisogna emettere un altro segnale, lo emette lungo un'altra ramificazione. Non sono un medico, non ho la necessaria competenza per dare i nomi giusti a questi oggetti, però so che gli ingegneri lo hanno copiato, hanno fatto questa cosa qui molto più brutta da vedere, oggettivamente piena di X, Y, W, Z e c'è anche una formula dentro, ma il fatto sta che quello che vedete a destra effettivamente è un neurone artificiale. Un neurone artificiale ha delle cose che assomigliano a delle sinapsi, che in realtà sono caratterizzate dai numeri, e ha degli ingressi e dell'uscita come un neurone naturale e come un neurone naturale collegato ad altri neuroni, in maniera estremamente regolare in realtà, perché di solito quelle che noi adesso sentiamo nominare i reti neurali artificiali sono delle schiere di neuroni artificiali uno dietro l'altro organizzati in quelli che normalmente vengono chiamati strati. La ragione per cui spesso sentite parlare di Deep Neural Network, con la parola Deep, cioè profondo, è dovuto al fatto che il numero di strati uno dietro l'altro è elevato, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. C'è una ragione tecnica per cui se non sei Deep sei più facile, se sei Deep sei più difficile, ma non ci interessa tanto. Se sei Deep sei in grado di fare cose molto più interessanti e più intelligenti. Però se voi capite che ogni neurone sono associati a dei numeri, qualcuno deve decidere quei numeri per determinare il funzionamento della macchina che risulta dalla connessione di questi neuroni e il problema grosso è come facciamo a decidere questi numeri in modo che la rete esibisca il comportamento intelligente che noi vogliamo che esibisca. E quello che viene fatto è usare non una programmazione diretta, cioè non sono mai io il progettista che decide cosa va in ognuna di quelle celle che contiene un numero, ma decido qual è il compito che deve essere svolto. Faccio qualcosa che si chiama machine learning, cioè apprendimento della macchina e supponiamo che io voglia far riconoscere immagini di cane alla mia rete neurale, non faccio altro che mostrare tanti cani, immagini, a sinistra e dirgli questo è un cane, 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 questo è un cane e così via. Dopo che questo procedimento è successo molte molte volte, l'algoritmo di apprendimento, cioè quello che insegna le connessioni giuste alla rete determina una configurazione finale, se tutto va bene la prossima volta che voi mostrerete una fotografia di cane la rete risponderà nella maniera giusta. Ora la rete non era così semplice ma esiste la rete che riconosce i cani, non solo riconosce i cani, riconosce qualche decina di migliaia di oggetti diversi in fotografie fisse, in immagini fisse e probabilmente l'esempio più famoso e così famoso da meritare un nome si chiama AlexNet ed è stato sviluppato nel 2012, non ha proprio 20 neuroni, ne ha 813 mila come vedete lì e ha 62 milioni di sinapsi, cioè di numerelli da decidere, ma ha un pregio questa AlexNet, questa AlexNet ci vede meglio di voi, nel senso che se io faccio la prova e prendo un essere umano e gli posiziono sotto un'immagine tra quelle più comuni, cioè quelle con un cane, con un aereo, con un alce, con un'automobile, con una tazza di tè e così via e vi chiedo che cos'è, voi sbagliate immediatamente di più di quanto sbaglia AlexNet, quindi quegli 813 mila neuroni sono sufficienti per fare una piccola parte di quello che il nostro sistema visivo fa, il nostro sistema è un miracolo, fa molto di più, fa predizione, trova cose in movimento, è sensibile, non si sta discutendo di una sostituzione, però quel piccolo compito è assolutamente alla portata dell'intelligenza artificiale. La cosa interessante è che questa sembra solo una capacità di analisi, no? Voi mi date qualcosa di già fatto e io vi dico che è un cane, ma non è così, perché in realtà se io prendo AlexNet, che è capace di vedere una foto di un cane e dirmi questo è un cane, posso interpretare il tutto come un procedimento di astrazione, prendo tanti dati e ve ne do uno solo. Bene, questo procedimento è invertibile. Io posso dire, non ad AlexNet, ma al suo opposto, il suo inverso, voglio un cane e AlexNet genera una fotografia di cane. Certo che ne ha visti tanti di cani, ne ha visti di tanti tipi, lei questa rete sa più o meno come è fatto un cane, sa che c'è un muso delle orecchie, del pelo e cose di questo genere, non lo sa come ve lo sto raccontando io, lo sa perché è codificato negli 813 mila neuroni e nei 62 milioni e passa di numeri che servono per determinarne il comportamento. Quindi poi per scegliere esattamente quale cane mettere, io ho bisogno di fornire un'aleatorietà. Quindi a partire dalla conoscenza analitica, diciamo così, ho visto tanti cani e ho astratto il concetto di cane, più un input aleatorio che è quale cane devo fare, come sarà fatto il mio nuovo cane, AlexNet è in grado di produrre, non è proprio AlexNet, è il suo inverso, per cui non ha più lo stesso nome, abbiate pazienza, è in grado di produrre immagini che sembrano cani. In realtà non le produce così bene, ma io posso fare qualcosa di molto astuto. Visto che ho un produttore mediocre di immagini di cane, ma ho un analista raffinatissimo di immagini di cane perché l'AlexNet originale ci prende più degli esseri umani, allora costruisco un sistema di questo genere. Prendo il sistema inverso, gli faccio generare una immagine che potrebbe essere di cane, poi riprendo il sistema diretto che è in grado di dirmi se è un immagine di cane e gli chiedo questo è un cane? Allora se tutto va bene sono a posto, se non va bene vuol dire che devo riadattare lievemente il mio sistema di generazione. Queste due entità si comportano in maniera competitiva una con l'altra, uno cerca di emettere un'immagine, l'altro cerca di dire no l'immagine non è giusta, devi cambiare qualcosa e quindi si configura quella che si chiama un sistema con generative adversarial neural network, sono due piccole intelligenze, grandi intelligenze artificiali che cercano di fregarsi uno con l'altro. Allora faccio subito la scivolata verso la parte creativa, sono il falsario di quadri e il critico d'arte, è il gioco della guardia del ladro, è la stessa cosa, questo gioco è estremamente efficiente e mi permetterei, se pensi che possa andare bene di fare un esempio di che cosa fa, che cosa produce questo gioco. Sperando che... Questo gioco produce questo. Quella è una fotografia, non è mia, però c'è un sito che lo fa, quindi non è... Quella è una cosa fatta da Van Gogh, ne ha viste moltissimo, la AlexNet di turno ha visto moltissime opere di Van Gogh, ha imparato lo stile, ha codificato nei suoi milioni di parametri lo stile di Van Gogh. A questo punto, con uno stimolo che non è del tutto casuale perché è la mia foto, io gli chiedo per favore applica lo stile di Van Gogh ed esce quella cosa che c'è a destra. Decisamente apprezzabile, è ovvio che un critico d'arte molto sofisticato sa che non l'ha fatto Van Gogh, peraltro questo vive in un universo digitale, per cui non c'è un quadro a cui avvicinarsi per apprezzare lo spessore della pennellata e tutto il resto che fa di Van Gogh un pittore estremamente affascinante, anche per il suo rapporto fisico col colore e con la stesura della pittura ovviamente, però è molto plausibile. L'altra cosa che vorrei farvi sentire, perché in questo caso si tratta di sentire, è che cosa può fare quel meccanismo creativo applicato alla musica. Quello che vi sto facendo vedere, OpenAI è un'associazione che cerca di rendere disponibile in maniera open tutto quello che si riesce a fare con l'intelligenza artificiale, è una fondazione a cui contribuisce l'onipresente Elon Musk, che ha anche questo nel suo sito, è facilmente reperibile, è un giochino che vale la pena di fare. Qui vedete una cosa relativamente sofisticata, ho chiesto producimi per favore qualcosa dello stile di Chopin, non gli ho dato nessuna introduzione, perché lui potrebbe sviluppare un'introduzione che avete scritto voi, di solo pianoforte, perché stiamo parlando di Chopin, mi sembrava la cosa più ovvia, e se siamo fortunati... La sintassi della musica è rispettata, l'armonia ci mancherebbe altro, questa non è così difficile di inserare una macchina, però gli abbiamo insegnato lo stile, questo non l'ha mai composto Chopin, probabilmente se avessimo ascoltato 10-15 minuti avremmo capito che poi ci mancava forse un vaglio di tipo estetico più approfondito, però lo stile era, non so se qualcuno di voi apprezza questo tipo di musica, l'hanno fatto sui Beatles, è una cosa che io ho scelto di fare ieri sera per avere un esempio al volo. Quindi, insomma, sono stratagemmi, diciamo così, che funzionano piuttosto bene a questo punto. Sempre più in ansia. Giuro che non ci siamo messi d'accordo. No, questo per lui era una sorpresa. No, spiego perché è il motivo d'ansia. Perché chiunque sia genitore, quindi non quella parte l'uditorio, a meno che non sia successo qualche problema, chiunque sia genitore sa che la preoccupazione verso se stessi è sempre nulla rispetto alla preoccupazione verso i propri figli. Ieri, non più tardi di ieri, mia moglie aveva comprato un nuovo libro per mia figlia che ha 19 mesi. Era un libro di quelli classici per bambini di quell'età, con queste immagini molto stilizzate. Ma era un libro, devo dire, mia moglie ha scelto libri migliori. Era molto, talmente stilizzata, erano talmente stilizzate le immagini che io dovevo porre oggettivamente un attimo di attenzione per interpretare quale fosse il riferimento oggettivo di quell'immagine. Mia figlia ha guardato una delle immagini che c'erano sul libro e ha detto albero. Io non ho potuto fare a meno di pensare a quanto fosse brava ad astrarre pattern in mia figlia ai 19 mesi. Cioè a riuscire a individuare, a ricondurre alla natura di albero qualcosa che, giuro, sembrava tutto tranne che un albero. Ma probabilmente nell'intenzione del disegnatore era un albero. Quindi da questo punto di vista forse mia figlia se la può giocare con i sistemi di intelligenza artificiale nella capacità di astrarre schemi, astrarre pattern. Riccardo diceva, per adesso non sono ancora dei fenomeni nella produzione. Sicuramente è più bravo un sistema di intelligenza artificiale di mia figlia a disegnare un cane, ma confido che con un po' di tempo a disposizione mia figlia possa migliorare. Il problema è che ho questa sensazione per cui noi abbiamo usato Van Gogh, prima io ho citato Rembrandt, adesso abbiamo sentito nominare Chopin. Ma il problema è che il diritto della proprietà intellettuale, abbiamo fatto l'esempio di geni, non protegge solo quello che fanno i geni. Per ogni Chopin ci sono infiniti, non infiniti, ci sono moltissimi musicisti dalle qualità obiettivamente non eccelse. Adesso non farò dei nomi per non offendere la sensibilità di nessuno, ma non so, non tutti i pianisti sono Chopin. E il diritto d'autore, come diritto della proprietà intellettuale, è indifferente alla qualità artistica. Cosa intendo dire? Intendo dire che il diritto d'autore protegge in modo neutro tanto il capolavoro della musica o della letteratura quanto l'opera modesta o addirittura insulsa della musica o della letteratura. Allora forse non sono tanto preoccupato del rischio che l'intelligenza artificiale ci presenta di privarci dei geni dell'umanità che verranno nei prossimi decenni o nei prossimi secoli, ma sono preoccupato magari del fatto che i musicisti normali, il musicista medio del settore, possa subire la concorrenza di un'intelligenza artificiale. Adesso Riccardo ci ha fatto sentire questo. Spotify ha un intero dipartimento in cui sviluppa un'intelligenza artificiale per creare musica di sottofondo, ma la musica di sottofondo fino all'altro ieri la creavano dei musicisti. Quindi il musicista che è sicuramente meno efficiente della macchina, non fosse altro in termini di produttività, a creare musica di sottofondo, che fine fa domani? Tu lo sai? No. Ottimo. Penso però, no, nel senso che non posso prevedere il futuro. Parto sempre dal presupposto che se Elon Musk e Jack Ma non si sono messi d'accordo e non lo sanno loro, non credo proprio di avere gli strumenti per determinarlo io. Però so che c'è la possibilità che l'intelligenza artificiale diventi comunque uno strumento di tipo collaborativo. Mi viene in mente l'esperimento che è stato fatto con un'intelligenza artificiale sviluppata da un'azienda che si chiama Primer, che legge articoli di giornale e genera titoli, di cui ho avuto la fortuna di parlare ieri all'ordine dei giornalisti. È una cosa molto interessante perché la generazione di un titolo a partire di un testo, a parte il fatto che è un compito separato rispetto alla produzione del pezzo e ha dei fini molto particolari e deve raggiungere, insomma, deve essere impressionante, deve catturare. Ecco, facendo un po' di ricerche si capisce che quello che succede in un contesto di questo genere è che è vero l'intelligenza artificiale riesce a produrre titoli, non tutti sono della stessa qualità di quelli prodotti dagli esseri umani, alcuni sono di qualità inferiori, alcuni sono di qualità superiori e questo immediatamente, e sono completamente diversi, scusate vorrei aggiungere questo, cioè se voi andate a leggere non ho qua, sì forse ce l'ho ma ci metto troppo a tirarlo fuori, usano parole diverse, mettono il focus su aspetti diversi dell'articolo, ma l'eventuale supervisore umano che si trovasse a scegliere non avrebbe dubbi e la performance del revisore umano sarebbe molto aumentata dal poter avere il consulente umano e il consulente artificiale. Questo è un panorama di collaborazione in ambito creativo che io vedo molto forte, credo anche nell'ambito musicale si possa fare così, probabilmente il jingle più elementare per la pubblicità potrebbe essere generato automaticamente, oppure potrebbe esserci una libreria gestita da un'intelligenza artificiale che aiuta la creatività di un essere umano che passa attraverso una scelta più estetica o magari più di targetizzazione verso il prodotto che si vuole effettivamente promuovere con quel jingle, cosa che per l'intelligenza artificiale potrebbe essere diversa. Quindi scegliendo di spostarmi più verso Jack Ma nell'ottimismo del futuro dell'intelligenza artificiale dovrebbero diventare strumenti molto sofisticati, però una volta non avevamo neanche le calcolatrici, li facciamo con l'abaco, i conti, quindi siamo abituati che i nostri strumenti diventano più sofisticati, uno strumento molto sofisticato a cui un po' ci dovremmo adattare, ma dalla cui sinergia dovremmo guadagnare moltissimo, volendo essere ottimista. La ventata di ottimismo non può che rallegrarmi di sabato andando verso l'ora di pranzo. Devo dire che ancora una volta c'è tanta sintonia tra gli ingegneri e molti giuristi, in questo senso, uno sforzo che viene fatto dai giuristi in questo settore è di ricondurre l'intelligenza artificiale esattamente a quello che diceva Riccardo, cioè a un mero strumento. Si dice, immaginate anche soltanto la fotografia, immaginiamo le prime macchine fotografiche in cui il controllo del fotografo, del processo creativo era pressoché assoluto. Adesso chi di voi ha degli smartphone particolarmente evoluti sa che ci sono sistemi di intelligenza artificiale dentro gli smartphone che fanno sì che vi suggerisca qual è la composizione della fotografia migliore, vi metta a fuoco alcuni oggetti e vi sfochi degli altri oggetti, vi crei degli effetti tali per cui poi quando voi mettete le foto su Instagram sono più belle e ricevete più like e via discorrendo. Sei molto girato verso quella zona là, vedi, in questo momento. Secondo me è una cosa generale. Può darsi, può darsi. Mi piace a tutti essere un po' più belli. È vero, è vero. Quest'estate ho utilizzato per la prima volta con mia suocera il filtro bellezza del mio nuovo smartphone. Era entusiasta dei risultati del filtro bellezza che è il risultato di un'intelligenza artificiale. Mia suocera è bellissima, ci tengo a precisarlo se mi sta guardando in streaming. Detto questo, io mi chiedo se in realtà poi i sistemi di intelligenza artificiale non abbiano un grado di autonomia sufficiente da poter giustificare, di qualificarli autonomamente come autori. Questo è un grande classico nel diritto dei brevetti. Si dice sempre, può darsi che la macchina possa inventare, ma chi gli dice qual è il problema tecnico da risolvere? È un essere umano, cioè è l'essere umano che dice alla macchina trovami la conformazione di setole che rimuove il maggior numero di placca da un punto di vista percentuale. Ma nel diritto dei brevetti chi pone il problema tecnico non è l'inventore. L'inventore è chi lo risolve il problema tecnico. Allora può darsi che sia uno strumento l'intelligenza artificiale. La domanda è fino a che punto uno strumento non diventa talmente autonomo da giustificare di essere qualificato da solo come inventore. Questo da un punto di vista giuridico pone un grandissimo problema. Ed è che se ha ragione la maggior parte degli studiosi nel dire che sui prodotti dell'intelligenza artificiale non si può attribuire un diritto di proprietà intellettuale, allora può darsi che nessuno abbia più interesse a investire nei programmi di intelligenza artificiale. Cioè io perché devo sostenere un investimento per inventare un sistema software o hardware software che produce dei risultati creativi se poi chiunque me li può copiare perché non sono protetti da un diritto di privativa. Quindi questo è un problema ed è un problema evidente, ma è un problema forse addirittura minore rispetto al problema opposto. Cioè rispetto a coloro che invece dicono che in realtà i prodotti creativi realizzati da intelligenza artificiale possono essere protetti da un diritto di proprietà intellettuale. La grande domanda è il titolare dei diritti chi è? Chi ha inventato, chi ha creato l'intelligenza artificiale? Chi ha usato l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale? In un documento del Parlamento europeo di un paio d'anni fa si suggerisce che il tema non sia di strettissima attualità ma che in prospettiva gli ordinamenti dovranno riconoscere dei diritti ai robot autonomi. È ovvio che questo per il giurista costituisce una sfida non indifferente. Il problema può essere anche ribaltato sotto una diversa prospettiva. nel momento in cui un sistema di intelligenza artificiale viola un diritto altrui immaginiamo, crea un'invenzione che viene brevettata ma con l'invenzione contraffattiva rispetto a un'altra. Io a chi faccio causa? Al sistema di intelligenza artificiale? A chi l'ha sviluppato? A chi lo usa? Anche se dal mio punto di vista il tema dell'incentivo, del disincentivo rispetto agli investimenti resta assorbente. Quindi come dire, da giurista preferisco risolvere il problema di trovare qual è il soggetto al quale attribuire diritti piuttosto che il problema di bloccare un'innovazione di questo tipo, per quanto ribadisco mi generi un certo livello d'ansia. Cioè non solo i giuristi vogliono che circoli del denaro per finanziare la ricerca, anche i ricercatori ovviamente. Quindi secondo me è quasi uno dei compiti del diritto quello di continuare a permettere lo sviluppo delle idee, delle tecnologie nuove, ovviamente facendo in modo che ciò non perturbi ciò che c'è già come assetto del diritto. Però secondo me è veramente una cosa che ci dovete aiutare a risolvere. Perché bloccare il tutto, cioè che sarebbe l'equivalente di non garantire nessun diritto di proprietà intellettuale a qualcosa che in realtà potrebbe decisamente rivoluzionare le nostre vite, se sviluppate adeguatamente, mi sembrerebbe, insomma, contrario allo scopo stesso del diritto come funzione sociale. Vuoi dire qualcosa? No, no, per quanto riguarda invece chi pagare, a parte il fatto che mi viene da ricordare che questo, purso con un altro accento assolutamente, però questo è un tema che è toccato anche nella letturatura fantascientifica, quella diciamo un po' più science-based di Asimov, nell'uomo bicentenario. L'uomo bicentenario è artificiale, gli vengono garantiti diritti fino a un certo punto, poi c'è la parte, diciamo così, più strappalacrime, che lui deve poter morire per essere veramente assimilato a un essere umano, ma ci interessa meno, perché comunque lui che è un creatore di piccole sculture, se non sbaglio, gli viene riconosciuto il diritto di guadagnare da queste piccole sculture, di reinvestire quello che guadagna nella sostituzione delle sue parti del corpo con parti biologiche e cose di questo genere. Quindi è un tema che probabilmente sentiamo anche, diciamo, nel nostro inconscio collettivo, non solo dal punto di vista del diritto. Hai poi dimenticato in realtà un altro possibile candidato per essere remunerato, che è molto analogo a quello che succede nella nostra, di società umana, che ha addestrato l'intelligenza artificiale. Molto spesso non è la stessa persona che ha progettato il software, non è la stessa persona che fornisce l'hard, non è la stessa persona che ha comprato il programma. C'è un ulteriore soggetto che è quello che si è incaricato di allenare, cioè di far vedere tutte le fotografie dei cani, di dirgli a un cane e così via. Che è l'equivalente dei nostri insegnanti. Potrebbe essere il momento di occuparsi del sistema educativo, delle intelligenze artificiali, almeno dal punto di vista della remunerazione, perché sono fondamentali quanto tutte le altre. È stata una dimenticanza non casuale, secondo me, nel senso che hai fatto il parallelo con chi addestra, chi insegna, chi educa. C'è giurisprudenza sulla titolarità dei diritti d'autore sulla tesi di laurea in capo allo studente o a chi lo ha addestrato, cioè al suo relatore di laurea. La giurisprudenza, ricordo una corte d'appello di Perugia di una ventina di anni fa, che dice che chi addestra non è mai l'autore. Può darsi che sia suo il merito scientifico, ma non è suo il risultato finale. Da questo punto di vista il tema, però è stato proposto anche quello che dici tu, il che dimostra, oltre alla tua profondissima conoscenza dei temi più strettamente ingegneristici, anche una certa sensibilità rispetto a quelli giuridici, è stata proposta anche questa soluzione. Diciamo che voglio provare a chiudere con una nota di speranza per tutti i giuristi in sala. Mi sembra che tu abbia stimolato i giuristi a trovare una soluzione. Forse la soluzione è talmente complessa che richiede una creatività che solo dei giuristi umani possono avere. Proviamo, però poi se non ci riuscite a un certo punto faremo qualcosa per aiutare. Bisognerà affidarsi a voi. Grazie.